Tante novità per VCO Trasporti a cominciare da questo bus dove ci troviamo ora? Sì, questo bus è una prova che stiamo facendo per essere pronti appena usciranno i bandi regionali con i contributi. È una prova che stiamo facendo di gestione degli autobus elettrici perché la nostra prospettiva è quella di andare a elettrificare tutta l'aria che c'è tra Verbagna e Domenia che è quella a maggior domanda di trasporto pubblico locale, quindi convertire la flotta degli autobus da gasolio ad elettrico con questa tecnologia sicuramente più green e più interessante per il futuro. Ci sono anche novità sulla frequenza dei passaggi dei mezzi, una richiesta arrivata da tempo dai cittadini? Assolutamente sì, siamo felici di poter dire che a partire dal 15 di aprile sperimenteremo dei nuovi orari che permetteranno di avere dalla fascia sulla realtà di Verbagna, dalla fascia tra le 7 di mattina e le 7 e un quarto di sera un autobus al massimo ogni quarto d'ora. In realtà sarà meno di un quarto d'ora, saranno circa 10 minuti per cui attraverso questo aumento considerevole del numero degli autobus e dei passaggi nella tratta tra Pallanza e Trobaso siamo certi di venire incontro a un'esigenza dei cittadini e di creare in questo modo col trasporto pubblico una valida alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Oggi anticipiamo quella che sarà poi la presenza in città di busse elettrici sulla principale tratta che è quella che va a Omenia e dal 15 di aprile partirà il servizio ogni 15 minuti sulle aree urbane che consentirà così a ciascuno di noi di cambiare magari anche le proprie abitudini e di evitare di utilizzare l'auto questo ovviamente per un vantaggio ambientale ma anche un vantaggio di vita collettiva. La metà del costo per ogni abbonamento viene coperto dal comune di Verbagna che quindi in questi anni, penso che lo scuola busse è gratuito ha cercato di sostenere l'utilizzo del trasporto pubblico e anche di sperimentare una mobilità diversa.